Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video! Oggi ragazzi ho deciso di parlarvi di un caso che mi ha particolarmente colpita, ma non tanto per il caso in sé, quanto per le indagini che ci sono state per arrivare al colpevole. Ma andiamo con ordine, come al solito, oggi parliamo del caso di Jessica Carpenter. Jessica Carpenter nasce a Wackigan, in Illinois, il 9 luglio del 1983, da Judy Carpenter e Charlie Carpenter. Un paio di settimane dopo la sua tragica dipartita avrebbe dovuto iniziare il suo ultimo anno di liceo. Jessica è la più piccola delle tre figlie di Judy e Charlie Carpenter, le sue due sorelle si chiamano Heather e Amy. È vero, Jessica nasce in Illinois, ma successivamente la famiglia si trasferisce e si stabilisce in Carolina del Sud, più precisamente ad Aiken. Aiken dà il suo nome anche al capoluogo della Contea ed è conosciuta per il pole e le corse dei cavalli. Jessica frequenta la Aiken High School, va molto bene a scuola, prende ottimi voti e fa parte della banda della scuola. Come tante altre adolescenti, Jessica nel tempo libero va a andare a fare shopping, le piace tantissimo la moda, la musica, andare ai concerti. Inoltre Jessica sul suo diario segreto scrive Jessica è un'adolescente coscienziosa. Il 9 luglio del 2000 compie 17 anni, ma già lavora part-time, nella Carolina del Nord. Non so esattamente dove andare, ma so cosa vorrei diventare. Una pediatra. Perché amo moltissime bambini, ne vorrei avere quattro e vivere con loro tra le montagne della Carolina del Nord o del Tennessee. In realtà, caro diario, potrei non fare nulla di queste cose che ti ho menzionato. Solo Dio lo sa davvero e chissà cosa è in serbo per me. Jessica è un'adolescente coscienziosa. Il 9 luglio del 2000 compie 17 anni, ma già lavora part-time presso il locale Red Lobster, per poter avere qualche soldo per sé. In pratica, la famiglia Carpenter si sente al sicuro. Vivono in una zona tranquilla in cui tutti quanti si conoscono. I bambini vanno e vengono da soli, da casa al parco. Nessuno si preoccupa. Ike è una città che conta 30.000 abitanti e sembra che lì tutto vada bene per forza. Quindi le giornate si susseguono, i vicini si salutano, passano del tempo assieme, sono tranquilli. E non si preoccupano minimamente dei vari crimini che invece avvingono nelle grandi città. E ovviamente si sta parlando di crimini di ogni genere. Violenze, furti, aggressioni e addirittura omicidi. Ad Ike non si sono mai verificati. Poi però arriva un giorno e in quel giorno tutto cambia. È il 4 agosto del 2000. È un venerdì. Tutte e tre le sorelle Carpenter si trovano a casa a godersi le vacanze estive. Heather e Amy sono fuori con delle amiche, mentre invece Jessica è a casa. Per Judy, la madre di Jessica, quello è un giorno come un altro. Tutto, come vi ho già detto, procede placidamente ad Iken. Tra le 11.30 e le 12.30, Judy e sua figlia Jessica pranzano assieme. Parlano del più e del meno, dopodiché Judy esce di casa alle 12.45 per non fare tardi a lavoro. Lascia così a casa sua figlia Jessica, di 17 anni, che accende la televisione e inizia a guardare delle soppopera che solitamente vanno in onda proprio d'estate. Judy esce di lavoro alle 17, ma non rientra subito a casa. Deve fare delle commissioni. Quindi va a pagare l'assicurazione della macchina, passa in farmacia a comprare un paio di cose e poi, per le 17.30 circa, rientra a casa. La donna dunque parcheggia la macchina, scende dalla macchina e si dirige verso l'entrata di casa sua. Infila la chiave nella serratura e già in quel momento sente il telefono di sua figlia Jessica squillare. Così apre la porta e la vede. Sua figlia, Jessica, riversa a terra, senza vestiti. Judy è spaventata perché non sa se c'è un aggressore in casa. Quindi, in predà l'ansia, si rifugia nella sua auto a chiamare il 911. Judy chiama dunque le forze dell'ordine dicendo che ha trovato sua figlia a terra. Non sa se è in vita, ma l'ha trovata senza vestiti. Ha paura che le sia stata fatta violenza. La polizia attiva immediatamente il codice rosso. Nel frattempo, l'operatore dice a Judy di rientrare in casa. E nonostante Judy abbia una paura maledetta, si fa forza. Torna in casa per sua figlia. A questo punto Judy si avvicina a sua figlia e dice a soccorsi che probabilmente non è più in vita. Non solo è fredda, ma ha anche gli occhi totalmente rovesciati all'indietro. I soccorritori arrivano pochi minuti dopo e gli investigatori agiscono in fretta. Dwayne Courtney è il capitano dell'unità investigativa del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Iken. In quel periodo vive circa 25 chilometri fuori città. Ma appena torna a casa lo chiamano per dirgli che deve fare marcia indietro. Ad Iken c'è stato un omicidio. Sul posto ben presto arrivano anche Bill Wicks, il vice procuratore legale, e Ray Scott, un detective. Sono circa le 19 di sera e in effetti quella è la prima volta che la polizia vede un omicidio così brutale ai danni di una ragazza. Un crimine del genere in precedenza dai che non è mai avvenuto. Ma ora parliamo un attimo della vittima, la povera Jessica, che è riversa davanti al soggiorno, proprio davanti all'ingresso. Ha il cavo del suo telefono fisso di casa avvolto attorno al collo ed è senza vestiti. Le autorità ci mettono ben poco a rendersi conto che Jessica ha subito violenza. Non solo è evidente da come è ridotta la casa, ma anche dallo stato del corpo di quella ragazza, che oltre ad aver subito violenza è anche stata strangolata. Inoltre è stata anche pugnalata alla gola con un coltello. L'aggressione è chiaro, è avvenuta in varie zone della casa. Della camera da letto alla cucina al soggiorno, dove Jessica trova la morte. Le autorità in ogni caso si rendono conto che ci sono diverse prove sulla scena del crimine. C'è il cavo del telefono trovato attorno al collo della vittima. E quella in effetti è una prova importante. Inoltre in cucina si rendono conto che manca un coltello e trovano anche un'impronta parziale. Ma la cosa più importante che sperano sia utile all'indagine è una cosa. Il DNA dell'aggressore di Jessica. Quella è l'unica prova concreta per i detective. Ed è il DNA di un uomo non identificato. In pratica il DNA di quell'individuo non è presente nel database. Prima di lasciare la scena del crimine, i detective notano un altro dettaglio importante. Non ci sono segni di frazione. Le porte sono chiuse, le finestre sono a posto. Quindi è possibile che Jessica conosca il suo assassino? Gli investigatori a questo punto devono scoprire se tra i conoscenti di Jessica c'è qualcuno di sospetto. Magari qualcuno che avrebbe voluto vederla morta per qualche motivo. In questo tipo di casi si iniziano in effetti ad interrogare persone vicine alla vittima. A meno che non ci sia già un probabile sospettato. Cosa che in questo caso non c'è assolutamente. Quindi le autorità partono dalla sua famiglia. Prelevano il DNA di tutti i suoi familiari, di suo padre, dei suoi cugnati. In generale da tutti i parenti maschi per poterli escludere dalle indagini. Il padre di Jessica, Charlie, sostiene che quel venerdì è a lavoro. Come tutti i giorni della settimana, tranne il sabato e la domenica. Però quella mattina il padre di Jessica ha una strana sensazione. Sente di dover tornare a casa prima. Non sa esattamente il perché di questa sensazione. E prova anche a tornare prima, ma purtroppo il lavoro lo trattiene. Di conseguenza non riesce a uscire prima. Charlie quindi stacca da lavoro verso le 15 di pomeriggio. Ma lavora a Wilmington, nella Carolina del Nord. E per tornare a casa ci mette ben 4 ore e mezza. Quando scopre che sua figlia non c'è più, Charlie ovviamente è in viaggio verso casa. E appena lo scopre, il mondo gli crolla addosso. Intanto, qualche giorno dopo, i risultati del test del DNA fatto sui familiari di Jessica arriva. E non c'è nessuna corrispondenza. Così le forze dell'ordine prelevano altro DNA dagli amici di Jessica e dai vicini di casa. Vengono prelevati più di 50 campioni, ma di nuovo non c'è nessuna corrispondenza. Dopo questi risultati chiaramente deludenti, i detective decidono di ricorrere a misure molto più drastiche. E lo fanno il giorno del funerale di Jessica e non solo. Infatti al funerale della povera ragazza partecipano tantissime persone, circa 300. La chiesa è piena di gente, ci sono telecamere di sorveglianza e agenti in borghese nella camera ardente. Osservano tutte le persone che si avvicinano alla vara, identificando chiunque possa sembrare sospetto, perché magari non fa parte della famiglia né della comunità. Dopo il funerale le autorità continuano a monitorare la tomba della ragazza per settimane al cimitero. Piazzano dunque, come vi ho già detto, delle telecamere di sorveglianza al cimitero, ma non solo. Aggiungono anche altre videocamere alla composizione floreale posta sulla tomba di Jessica. Ed è proprio in questo caso che gli investigatori scoprono qualcosa che giudicano allarmante. I filmati del cimitero mostrano un ragazzo che fa ripetutamente visita alla tomba di Jessica. E appare strano che un ragazzo sia così tanto attaccato a Jessica ad andarla a trovare tutti i giorni al cimitero. E se in realtà fosse lui il colpevole? E se quel ragazzo si sentisse in colpa per ciò che ha fatto? E quindi andasse al cimitero a trovare Jessica proprio per chiedere il suo perdono? Tutto è possibile. Ma alla fine quel ragazzo si rivela essere un amico di Jessica che era rimasto profondamente scosso dalla sua ripartita. Apparentemente quindi nessun familiare o amico di Jessica ad essa sospetto. E quindi la polizia inizia a chiedersi una cosa alquanto ovvia a mio parere, ossia magari Jessica aveva dei segreti, aveva una vita segreta? Tutti gli adolescenti in effetti hanno dei segreti. Forse quel segreto le ha provocato la morte? Gli investigatori a questo punto decidono di indagare in modo più approfondito sugli uomini presenti nella vita di Jessica. La ragazza a quel tempo non è solita frequentare nessuno. Poi ci sono diversi ragazzi, i suoi amici, con cui è solita uscire. La polizia convoca in centrale due amiche di Jessica. Alice ed Amy chiede loro se Jessica ad esempio ha un ragazzo, come si trova con i colleghi nel ristorante in cui lavora, il Red Lobster, se frequenta qualcuno della scuola e infine se custodisce qualche segreto. Insomma le autorità stanno raccogliendo informazioni per cercare di ricostruire la sua vita. Finalmente arriva una prima svolta nel caso. La squadra della scientifica va a casa di Jessica per requisire computer e telefoni e analizzarli. Ed è proprio sul computer di Jessica che la polizia scopre qualcosa che non va, assolutamente. Sul computer di Jessica la polizia scopre una serie di messaggi da parte di un uomo di nome Joseph Eichen. C'è in realtà un messaggio particolare dell'uomo che attira gli investigatori. Infatti lo stesso giorno in cui Jessica viene a mancare, Joseph le scrive testuali parole. Vivi al massimo, muori giovane e lascia un bel corpo. I detective appena leggono quel messaggio hanno la pelle d'oca. E quindi provano immediatamente a ritracciare questo Joseph. Vanno in un piccolo quartiere nell'area sud di Eichen, riescono a trovare Joseph e gli chiedono spiegazioni. Quest'ultimo dice semplicemente che con quel messaggio scherzava, non diceva sul serio. In ogni caso, Joseph è di gran lunga più grande rispetto a quello che ha scritto in quella chat. Si finge un ragazzino delle superiori, ma in realtà ha tipo 28 anni. La polizia quindi interroga i vicini di casa di Joseph, i quali dicono che l'uomo è solito organizzare feste a base di alcol con teenager. Inoltre è famoso per essere stato con parecchie ragazze minorenni. Joseph diventa un sospettato proprio quando i detective scoprono che offre alcol a minorenni. Anche a lui prelevano un campione di DNA. Ma anche questa volta fanno un buco dell'acqua. Il DNA non combacia. Alla fine, Joseph viene condannato a 10 anni di prigione per il comportamento inappropriato tenuto in chat con quelli adolescenti. Però, l'assassino di Jessica è ancora piede libero. A questo punto le autorità non sanno più da che parte girarsi. Quindi chiedono aiuto ad alcuni esperti nel campo della profilazione criminale. La domanda che si pone la polizia è, chi ha scelto quella ragazza come vittima? Beh, bisogna analizzare il crimine. I detective hanno già stabilito che c'è stata una violenza intima. Il che fa pensare che l'aggressione sia proprio di natura intima. Così Michael Proden delinea un profilo dell'assassino, tenendo ovviamente conto che non vi erano segni di effrazione. Ebbene, probabilmente questo individuo conosce il quartiere, aveva già visto Jessica. E aveva le capacità sociali di mantenere il controllo senza ricorrere alla violenza. Le armi del delitto sono state prese sul luogo del crimine. Questo suggerisce che probabilmente il colpevole si trovava lì per fare violenza su Jessica. Di conseguenza l'omicidio in sé è stato un qualcosa dal punto di vista dell'assassino, che è stato costretto a fare per non farsi catturare. Michael Proden alla fine tira le somme. La vittima è caucasica, il quartiere è caucasico. Di conseguenza anche l'assassino crede sia caucasico. Gli investigatori di Iken però non sanno che l'uomo che corrisponde a quel profilo, sta perseguitando altre donne nella zona. Jessica Carpenter non è l'unica vittima. O almeno, così sembra. Il 17 luglio del 1999, più di un anno prima della dipartita di Jessica Carpenter, Melissa Dinges scompare a Graniteville, a soli 10 km di distanza da Iken. Il 13 ottobre del 2000 vengono ritrovati i suoi resti, in una zona boscosa a largo dell'interstatale I-20, vicino ad Harlem, in Georgia. Le analisi rivelano che proprio come Jessica è stata strangolata e poi lei è stata fatta violenza. Il 4 dicembre del 1999 una giovane di nome Tiffany Wilson scompare mentre è in un supermercato, il Winn-Dixie, ad Augusta, sempre in Georgia. Il 30 dicembre due cacciatori scoprono il corpo di una giovane donna in una zona boscosa vicino a Graniteville, che invece è nella Carolina del Sud. Anche a lei è stata fatta violenza, poi è stata strangolata ed è stata pugnalata al collo. Quel corpo è di Tiffany Wilson. Infine, un paio di mesi prima dell'omicidio di Jessica, nel giugno del 2000, scompare un'altra giovane donna, Tabata Bosdell, di Augusta, in Georgia. Anche lei viene ritrovata il 19 giugno del 2000, è stata strangolata e ha subito violenza. Gli investigatori del dipartimento di polizia di Ike non sono a conoscenza di questi crimini, che potrebbero davvero essere tutti quanti collegati tra loro. Ma arriva il 5 settembre del 2000, quando Marnie Marie Glista, un soldato della base militare di Fort Gordon, ad Augusta, non si presenta al servizio. Nessuno sa cosa sia successo alla donna, così il comandante decide di contattare la polizia. Chiede agli agenti di passare a casa di Marnie, in quanto il marito è partito qualche giorno prima in missione nel Kuwait, mentre lei non solo non si è fatta viva lavoro, ma risulta irraggiungibile. La polizia, quando arriva a casa della donna, trova Marnie ai piedi del letto. È priva di sensi, senza vestiti, ma non è morta. Viene di conseguenza portata d'urgenza in ospedale. Marnie presenta danni cerebrali, e purtroppo in poco tempo viene giudicata cerebralmente morta. In tutti questi casi ci sono dei palesi richiami all'omicidio di Jessica Carpenter. Inoltre, la notizia di una brutale aggressione a un soldato della zona giunge anche ad Iken. Arriviamo ad ottobre, quando il dipartimento di polizia di Richmond, in Georgia, viene chiamato per un'aggressione intima e un furto. Così lo sceriffo Richard Roundtree e gli altri agenti vanno sul posto insieme. La ragazza in questione si chiama Christy Lee Barton, ed è stesa a terra nella camera da letto. È stata pugnalata la gola e sanguina le sue ferite e sono gravi. Quindi lo sceriffo cerca di farle raccontare le più cose possibili sul suo aggressore. Christy Lee non dà molte informazioni utili in quel momento, ma non viene a mancare. Dopo sei ore di intervento, la ragazza riesce a sopravvivere. Gli investigatori quindi riescono finalmente a ottenere da Christy Lee un identikit dell'aggressore, che a quanto pare l'ha avvicinata in un parcheggio di un ristorante. L'uomo le ha offerto di scattarla alcune foto artistiche. Le avrebbe dato 200 dollari se avesse fatto la modella per lui per un servizio fotografico. Christy Lee ha raccontato anche in televisione che non era assolutamente sicura di salire su quell'auto. Era riluttante, ma alla fine ha deciso di portare il fotografo a casa del suo patrigno. Poi però, passando davanti a casa sua, ha scoperto che l'uomo non era in casa e quindi ha provato a seminare il sedicente fotografo. Fortunatamente erano su due macchine separate. E questo dava a Christy Lee un grosso vantaggio. Purtroppo però l'uomo continua a inseguirla. Christy Lee quindi esce dalla macchina e si dirige velocemente verso casa di sua madre per chiudersi dentro, ma purtroppo non fa in tempo. L'uomo riuscì ad entrare in casa con lei. Appena entrambi sono in casa, l'uomo non perde tempo, fa immediatamente violenza intima su Christy Lee. La strangola e poi la colpisce al collo ben due volte con un coltello da bistecca. Nella sua dichiarazione Christy Lee ha detto chiaramente che il suo aggressore pensava fosse morta. Ecco perché l'ha lasciata lì. Se n'è andato. Dunque, ha fatto un errore. A questo punto si forma la teoria che... ...ci possa essere un serial che colpisce tra Aiken e Augusta. E forse Jessica è stata proprio una delle sue vittime. La polizia a questo punto diffonde l'identikit e viene inondata di telefonate. Più di 30 donne dicono di aver già visto quell'uomo. Si è avvicinato a tutte con la scusa delle fotografie. Purtroppo però questa mole di chiamate, per quanto vasta sia, non aiuta per nulla la polizia ad andare avanti con l'indagine. In quanto queste donne non sanno fornire più informazioni di quelle che la polizia già conosce. Quindi l'unica cosa che capiscono alla perfezione i detective è che a quanto pare questo tizio era solito fare queste cose molto di frequente. Poi però un giorno ecco che arriva una chiamata. Una chiamata diversa dalle altre. Perché una donna ha delle informazioni proprio sull'uomo dell'identikit. Che è incontrato proprio poche settimane prima della morte di Jessica. La giovane chiama la polizia dicendo di aver riconosciuto quell'uomo. E quella giovane è una collega di Jessica. Lavorano insieme a Red Lobster. E chiama la polizia dicendo di aver riconosciuto perfettamente quell'uomo. E solito dar fastidio alle donne nei parcheggi facendo loro delle domande parecchio inappropriate. E questa giovane dice chiaramente che lei e Jessica erano insieme quando quest'uomo le ha avvicinate. E poi ecco che qualche settimana dopo Jessica trova la morte. E questo collega Jessica a quell'uomo in qualche modo. Quella sera fortunatamente un agente di polizia è nei paraggi. Quando lo vede parlare con le due ragazze quindi scende dall'auto. Proprio per controllare che sia tutto a posto. A questo punto l'uomo se ne va. Però sa dove lavora Jessica. Anche perché ha ancora addosso la sua divisa del ristorante. Quindi è vero che la gente quella sera per il momento quell'uomo l'ha allontanato. Ma la verità è che quell'uomo avrebbe tranquillamente potuto individuare Jessica e seguirla fino a casa. La polizia il nome di questo individuo non lo sa. Fino a quando non si fa avanti un'altra donna. E preparatevi perché questa donna sostiene che l'individuo che tutti cercano potrebbe essere suo cognato. In quanto in quel periodo ha un comportamento davvero molto sospetto. La donna dice alla polizia che sa che è lui o sia suo cognato perché gli piace approcciare le ragazzine. In quanto anche durante il matrimonio con sua sorella lo faceva. La cognata di questo presunto colpevole quindi racconta alla polizia che l'uomo si chiama Rinaldo Rivera. E possiede un'auto di un insolito verde acqua. La polizia diffonde la discrizione dell'auto che viene rintracciata ben presto in un motel ad Iken. Le forze dell'ordine quindi si dirigono verso la stanza di Rivera. Sul momento però nella stanza non lo trovano. Si dirigono in bagno. Ed eccolo lì. Sta cercando di uccidersi. Ha i polsi tagliati con una lametta. Gli agenti però fanno di tutto per salvarlo. Viene quindi trasferito all'ospedale poi vicino per poi essere portato nella contia di Richmond. In modo da essere interrogato. Lo sceriffo Richard Rountry sostiene che durante l'interrogatorio gli è sembrato che Rinaldo Rivera fosse fiero delle sue azioni. Ha ammesso di aver fatto violenza su più di 200 donne durante tutta la sua vita. Rinaldo Rivera è accusato di aver fatto violenza. E ha coltellato Christy Lee Barton. Che però è sopravvissuta. Ha strangolato e fatto violenza sul sergente Marniglista. E ha strangolato e fatto violenza su Tabata Bosdell. Eppure c'è da dire che Rinaldo sembrava un agnellino. È un uomo molto legato alla famiglia. Ha due figli piccoli e graziosi. Va in chiesa. Lavora in una fabbrica di pneumatici ed è considerato un uomo rispettabile all'interno della comunità. Gioca bene le sue carte Rinaldo insomma. Ha una bella famiglia che porta spesso a fare grigliate. E quella è la vita che mostra a chi conosce. Ma non è la vita che conduce dopo il lavoro. Quando va in cerca delle sue prede. Nel frattempo la polizia di Iken lavora per trovare delle prove che colleghino Rivera all'omicidio di Jessica Carpenter. Le autorità sono troppo sicure di aver trovato il colpevole. Ci sono troppi pezzi di puzzle che combaciano. Sono tutti convinti fermamente che sia lui il colpevole. Ma quando gli investigatori perquisiscono la stanza del motel in cui alloggiava Rivera trovano un biglietto scritto dall'uomo. E in quel biglietto Rivera scrive Non ho ucciso io Jessica Carpenter. Quindi verso la fine del 2000 Le famiglie delle vittime confermate trovano un po' di pace. Però i familiari di Jessica aspettano ancora delle risposte. Rivera nonostante abbia confessato di aver commesso diversi crimini Non ammette di aver fatto fuori lui Jessica Carpenter. Lo nega fermamente. Lo nega così tanto da spazientirsi. Infatti a un certo punto l'uomo dice ai detective Mi spiegate perché dovrei parlarvi di omicidi che ignoravate e non confessare quello di Jessica? Se fossi stato io non avrei problemi a dirvelo. A questo punto lo sceriffo Richard Roundtree conclude l'interrogatorio. In un secondo momento prelevano anche un campione del suo DNA. Arriva gennaio 2001. E i risultati del test del DNA di Rivera non portano a nessuna corrispondenza. Per i familiari di Jessica questa notizia è devastante. Ogni volta finiscono in un vicolo cieco e non sanno più dove sbattere la testa. Intanto il detective Ray Scott si può affermare si è diventato quasi parte della famiglia Carpenter. Lavora il caso dall'inizio e duramente. E quando scopre che il DNA non combaciano anche lui si è buttato davvero molto molto giù. È un colpo davvero duro quello. Perché è difficile da pensarlo ma è così. Sono di nuovo al punto di partenza. Rivera viene condannato per l'omicidio di Marni. E riceve sette condanni all'ergastolo per gli altri crimini. L'assassino di Jessica Carpenter però è ancora in libertà. Lo stesso Rivera dice all'autorità. C'è un altro predatore là fuori. Ed è come me. Ormai sembra che ci vorrà un miracolo. Per ottenere una corrispondenza e identificare l'assassino di Jessica. Poi a quasi due anni dall'omicidio il detective Ray Scott riceve una chiamata dal tecnico che analizza i DNA. L'uomo dice al detective. C'è una corrispondenza e ti sto parlando di quel DNA. Ray Scott quasi non ci crede. Al momento cade dalla sedia. Deve uscire dal suo ufficio per prendere una boccata d'aria. Quindi l'hanno trovato. Ma com'è successo? Ebbene qui entra in gioco un altro ennesimo tizio di nome Robert Atkins. Che ha violato la libertà condizionale in Georgia ed è tornato in carcere. E ora qui vi starete chiedendo E mo' che diavolo è sto Robert? Andiamo per gradi. Al tempo la Georgia è uno dei pochi stati dove a tutti i detenuti del sistema penitenziario viene prelevato il DNA per essere inserito poi nel database nazionale. Robert Atkins è stato condannato per furto nel 1999 e a quel tempo la Georgia si prelevava il DNA ma solo in caso di reati intimi. Ma quando Robert Atkins viola la libertà condizionale nel maggio del 2002 la legge è cambiata e il DNA viene prelevato a tutti i detenuti. La verità è che se Robert Atkins non avesse mai violato la libertà condizionale forse non sarebbe mai stato collegato all'omicidio di Jessica. Perché il DNA di questo Robert Atkins combacia. È il DNA trovato sul corpo di Jessica. La verità però è una. Nessuno sospettava di Robert Atkins. Non è un assiduo frequentatore della zona di Iken e non ha precedenti per violenza intima. Quindi anche con la prova del DNA gli investigatori devono scoprire quale legame ci sia tra Jessica e Atkins per poi tentare di capire cosa si è successo con esattezza. Perché Robert Atkins ha scelto proprio Jessica? Ci deve essere un motivo. Questa aggressione non può essere avvenuta in modo casuale. Gli investigatori quindi provano ad approfondire e scoprono che Robert Atkins ha lavorato presso una società di nome Airborne Express. Un servizio postale in subappalto. Ed è proprio grazie al suo lavoro che Robert Atkins viene a conoscenza di Jessica. Ha la possibilità quindi di arrivare alla sua porta di casa per interagire con lei senza destare immediati sospetti. Insomma quando Atkins avvicina Jessica per la prima volta non è suonato alcun campanello d'allarme. La ragazza non pensa di essere in pericolo. Ecco perché apra l'uomo. Robert Atkins viene ben presto interrogato da Dwayne Curtis ed il detective Caglia Corto gli dice che il suo DNA è stato ritrovato sul corpo di Jessica Carpenter. Quindi lo avrebbero accusato di omicidio. Inizialmente Robert nega ogni coinvolgimento. Si dimostra disponibile a parlare con la polizia ma sostiene di non conoscere questa Jessica. Non l'ha proprio mai sentita nominare in vita sua. Il detective quindi decide di far vedere a Robert Atkins una foto di Jessica ma non una foto in cui Jessica era in vita. Bensì il detective mostra a Robert una foto del corpo di Jessica senza vita. Per cercare di vedere se ha qualche reazione in particolare magari ha qualche cedimento. Inizialmente il detective Dwayne Curtis fa un po' finta di niente e chiede semplicemente a Robert ma quindi non la conosce questa ragazza? Robert alza le spalle e non parla non dice assolutamente niente. Alla fine però è proprio Robert Atkins a chiamare il dipartimento di Iken dicendo però di voler parlare solo con il detective Ray Scott. Dopo anni spese a risolvere questo caso il detective Ray Scott finalmente ha l'opportunità di confrontarsi con l'assassino di Jessica. Ray dice quindi a Robert di essere un investigatore del dipartimento di polizia di Iken fa quel lavoro da 18 anni. I due quindi si siedono e parlano in realtà inizialmente non parlano mica di Jessica Carpenter ma di altro parlano di hobby, della famiglia. Il detective Ray Scott continua a chiedergli cose per non farlo smettere di parlare. Robert Atkins quindi spiega al detective Per 15 anni, per un motivo o per un altro, sono stato in prigione. In realtà conosco solo la vita della prigione. Qui dentro allo stato provvede i miei bisogni. Se mi serve del sapone per lavarmi basta che glielo chiedo e loro me lo danno. Non devo preoccuparmi di nulla. A questo punto riesce a intavolare finalmente un discorso in cui Jessica è la protagonista. Il detective quindi dice a Robert Non ho mai incontrato quella ragazza ma ormai la conosco meglio di chiunque altro. Mi sono occupato di questo caso giorno e notte. Me ne sono occupato fin dal primo giorno. Conosco tutto di lei anche cose che i suoi genitori ignorano. E ho promesso loro che non mi sarei mai fermato. Mai. E non l'ho fatto. Ho continuato a cercare il suo assassino. Non ricorda proprio di averle parlato, Robert. Robert risponde Ma la sua faccia non mi dice niente. Il detective a questo punto ribatte e come ci è finito il suo DNA sul corpo della vittima? Robert alza le spalle e dice Non saprei proprio. A questo punto il detective Ray Scott decide di parlare a Robert della madre di Jessica, Judy. Il detective quindi dice a Robert Judy vuole avere delle risposte. È devastata. Non è più tornata nella sua casa e non riesco a immaginare il dolore che ha provato e che proverà per il resto della sua vita. Ogni giorno guardo negli occhi quella donna e percepisco il dolore che la divora. Ray parla, continua a parlare a ruota libera e Robert pare cambiare un pochino atteggiamento. Sembra in un certo senso più vulnerabile e a un certo punto inizia a parlare ed è un fiume in piena. Robert Atkins inizia a dire al detective Ha mai fatto qualcosa che pensava di aver già fatto ma in realtà non è successa? Per qualche strana ragione ti ritrovi a guardare te stesso mentre fai quella cosa e non riesci a fermarti. Non sai perché sta succedendo. Lo hai già visto succedere ma sai che non è mai accaduto. In quell'esatto momento anche se non è mai accaduto tu sai già cosa succederà e non puoi fermarlo. Ti ritrovi fuori dal tuo corpo e osservi te stesso fare qualcosa che non puoi fermare. Robert Atkins a questo punto si accuccia si mette le mani davanti al viso Marie Scott si avvicina gli posa una mano sulla spalla e dice a Robert Ascolta io voglio dare una risposta a Judy la madre di Jessica Jessica se n'è andata non potrà vederla mai più Robert dimmi se potessi dirle qualcosa tu che cosa le diresti? Di nuovo il detective con questa frase riesce a sbloccare Robert in qualche modo perché riprende a parlare Robert quindi dice Io lo so che sua madre sta affrontando questa cosa da due anni o poco più lo so ma lei non è la sola sono io che ogni volta che mi corico e chiudo gli occhi sono io che vedo il suo volto e mi perseguiterà per tutta la vita nessuno lo rimpiange più di me sono stato io a farlo è con queste parole che Robert Atkins confessa al detective Ray Scott di essere lui il colpevole di essere stato lui confessa di aver ucciso Jessica Carpenter Robert continua dicendo ricordo che è successo tutto così in fretta sono entrato in casa e ho iniziato a parlare come se niente fosse è stato tutto così semplice naturale ma quindi come sono andate in realtà le cose ebbene Robert Atkins consegna della posta a casa dei Carpenter esattamente la settimana prima del crimine la famiglia Carpenter è stata a Chicago e ha noleggiato un'auto quindi Atkins a casa Carpenter per la prima volta consegna una fattura di qualche dollaro dell'autonoleggio quindi Robert bussa alla porta di casa Carpenter ad aprire Jessica firma e Robert in quel momento se ne va passa quindi qualche giorno arriva il 4 agosto nel 2000 e Robert si ritrova di nuovo in quella zona è vero deve comunque consegnare un pacco ma non dai Carpenter lì nelle vicinanze quindi che cosa fa Robert ne approfitta e si ferma proprio davanti casa di Jessica Robert spiega non so cosa mi abbia spinto a fermarmi davanti a quella casa però l'ho fatto quindi Robert Atkins bussa la porta e ad aprire sempre Jessica Robert inventa una scusa e le dice che probabilmente ha lasciato lì un pacco per errore Jessica però dice che è improbabile e dice sicuro di non aver sbagliato indirizzo Robert quindi risponde ma no non credo e chiede a Jessica di fare una chiamata dal suo telefono di casa Jessica quindi lo accompagna in salotto Robert prende il telefono e finge di comporre il numero del suo ufficio in realtà però sta componendo un numero totalmente a caso rimane con la cornetta in mano per un po' poi mette giù il telefono Robert in questo caso spiega mentre stavo telefonando Jessica mi ha chiesto se volessi qualcosa da bere gli ho detto di sì e lei mi ha portato un bicchiere di acqua con ghiaccio l'ho ringraziata e quando ho fatto per stringere la mano è cominciato tutto quando lei ha allungato la mano per stringere la mia l'ho afferrata e tirata verso di me lei si è voltata e io le ho messo le braccia attorno al collo Jessica a questo punto mi ha detto prendi quello che vuoi non chiamerò la polizia prendi ciò che vuoi e vai via io non lo dirò a nessuno a quel punto quando mi ha detto che non avrebbe chiamato la polizia ormai avevo iniziato e non sono più riuscito a fermarmi Robert quindi trascina Jessica in camera da letto la costringe a spogliarsi fa violenza su di lei dopodiché torna in cucina e afferra un coltello con quel coltello taglia i fili del telefono gliele avvolge al torno al collo e tira fino a quando Jessica non perde i sensi infine prende uno straccio le copre il viso e le taglia la gola esce poi da quella casa come se nulla fosse continuando a fare le sue consegne e Robert torna alla sua vita Robert racconta ciò che ha fatto con un'estrema freddezza nella sua voce nel suo sguardo non c'è niente che possa anche solo lontanamente far pensare al rimorso Robert Atkins non sa cosa sia il rimorso grazie al DNA la confessione e le prove contro Robert Atkins sono solide ma manca ancora una prova decisiva l'arma del delitto il giorno in cui Robert ha ucciso Jessica sa di doversi sbarazzare dell'arma ossia un coltello Robert dopo aver confessato in ogni caso indica l'esatta posizione in cui si trova quel coltello poco lontano dal luogo dell'omicidio è stato alle intemperie per ben due anni ma fortunatamente sotto il coltello ci sono ancora delle piccole piccolissime quantità di sangue e quel sangue corrisponde al sangue di Jessica arriva a maggio 2006 sono passati quasi sei anni dall'omicidio di Jessica e Robert Atkins finalmente va a processo viene ovviamente dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo finalmente quindi giustizia è stata fatta? beh sono passati vent'anni da quel crimine e il padre di Jessica Charlie ancora oggi non riesce a farsene una ragione sostiene che quel senso di vuoto continua ad essere presente in lui in ogni momento la differenza è che ora rispetto a vent'anni fa è solo più tollerabile detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere con un commento qui sotto quello che volete conoscevate questo caso e che cosa ne pensate? ragazzi ragazzi noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi